Oggi dobbiamo parlare di superfici, in realtà fanno un discorso un po' più generale perché poi oltre a definire una porzione di superficie regolare dobbiamo poi anche andare ad adottinarci al problema dei massimi e minimi sui due insiemi DRN per funzioni di più varianti. Allora, cominciamo con una lemma. Allora, supponiamo di avere due vettori di LV, che ho V e W appartenenti a LV. Non disegno gli assi perché altrimenti la piccola non si capisce più niente. I vettori partono tramite l'origine, questo è V e questo è W. Allora, quindi ho, qui ho V più W. Per esempio, questi punti, l'origine, il punto di coordinate, le coordinate di V, il punto W, il punto W più W, sono i punti che delimitano un parallelogramma, stanno su un piano, sullo stesso piano. e questo vettore è linealmente dipendente da questi due. E in questo piano obliquo si intuisce che delimitano un parallelogramma. Allora, io voglio trovare un vettore ortogonale al parallelogramma che abbia una lunghezza pari all'area del parallelogramma stesso. Ok? Allora, questo vettore è V esterno W. Chi è V esterno W? è il determinante simbolico di questa matrice E1, E2, E3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Quindi, se andiamo a sviluppare, questo ha per prima componente V2, W3, meno W2, W3, per seconda componente W3, W1, meno W3, i segni sono scambiati perché più, meno, non è un determinante determinante, perché questi sono versori e questi sono numeri, però lo chiamiamo determinante simbolico perché lo sviluppiamo se fosse un determinante del perché. e la terza componente è W1, W2, meno W1, W2. Ora, innanzitutto dimostriamo che questo vettore ortogonale sia V che W. Andiamo per esempio a fare V esterno W scalare W. Questo chi è? Il prodotto scalare devo fare, il prodotto scalare canonico, in Rn, devo fare la somma dei prodotti tutte le compagni di amore, cioè devo fare V1 per V2, W3, meno W2, W3, più V2 per V3, W1, meno W3, più V3 per V1, W2, meno W1, W2, meno W1, W2. E qua possiamo osservare che viene zero perché V1, W2, W3, V1, W2, W3, qua è con più e qua è con meno, si cancella. Poi, V1, W3, W2, W1, W3, W2, una volta con più e una volta con meno, si cancella. Infine, V2, W3, W1, W2, W3, W1, anche qui una volta con più e una volta con meno, si cancella. In realtà, è facile capire che quando vado a fare il prodotto scalare, che cos'è? Questo è un mero determinante, un mero numero, è come se io qui avessi messo V1, W2, W3 e poi avessi messo di nuovo V1, W2, W3, W1, W2, W3. Perché? Come vettore, questo moltiplica il versore con 1, questo moltiplica il versore con 2, questo moltiplica il versore con 3. Quando vado a fare il prodotto scalare? Questo sta al posto di E1, questo sta al posto di E2 e questo sta al posto di E3. Quindi, se metto V1, W2, W3 al posto di E1, W2, W3, ottengo questo prodotto scalare. Ma questa matrice ha due leggi uguali, come determinate? Per analoghi motivi, cioè facendo un analogo sviluppo, anche V esterno, W, scalare W, fa 0. Perché a quel punto è come mettere W1, W2, W3 al posto di E1, W2, W3. Invece di essere uguale alla prima e alla seconda, sono uguali alla prima e alla terza, mentre 3 fa sempre 0. Quindi abbiamo dimostrato che questo vettore è ortogonale a entrambi. Adesso, in questo... In questo parallelogramma. Come si calcola l'area? Per calcolare l'area, io devo proiettare ortogonalmente W su V, togliere questa proiezione e andare a prendere questo vettore qui. Cioè, W è la somma della proiezione di W su V. Più questo vettore. Questo vettore risulta ortogonale a V. Allora, a V si prende la lunghezza e si fa la base. Poi si prende la lunghezza di questo vettore e si fa l'altezza. L'area del parallelogramma è base per l'altezza. Ok? Allora, chi è la proiezione su V di W? Questo qui, se vi ricordate, è W scalare V fratto V scalare V per W. E quindi, W meno la proiezione su V di W è uguale a W meno W scalare V fratto V scalare V per V. O, se preferite, posso anche scrivere così, 1 su V scalare V per V scalare V doppio meno W scalare V. Allora, adesso io cosa devo fare? Ora, devo fare la lunghezza di V per fare l'area del parallelogramma, questo è uguale alla lunghezza di V, cioè... dovrei fare la radice di V scalare V, ma poi devo moltiplicarlo per la lunghezza e l'altezza. Questa è la lunghezza, questa è una strada, la porto fuori e semplifico. E devo fare la lunghezza di questo. Quindi, io faccio la norma di V, V, W più o meno W più o meno W. Cioè, faccio la norma al quadrato di questo. Divido per la norma al quadrato di questo. e poi devo estrarre la radice quadrata, ok? Ok? Ok. Se non ho fatto il problema. Se faccio il problema, vi ricomincio. quindi... A... Chi devo fare? Aria parallelogramma, uguale. Allora, cominciamo a scrivere le componenti di V, V, W, W, W. Queste sono... Allora... Allora... V 1, 4 più 2, 4 più 3, 4 più W, 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 W. Poi, qua abbiamo la stessa cosa, V 2, W, 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 W. Questa parte è uno, doppio uno, più due, doppio due, più un tre, doppio tre, due, idem. Uno, quattro, più due, quattro, più un tre, quattro, doppio tre, meno un doppio uno, più un due, doppio due, più un tre, doppio tre, un tre. Allora, io adesso che devo fare? Devo fare, per fare la norma, questo vettore chiamiamolo omega, per fare la norma di omega al quadrato, devo fare la somma dei quadrati delle tre componenti. Allora, facciamo la somma dei quadrati di questo, la somma dei quadrati di questo e poi dobbiamo fare la somma dei due prodotti. Quindi abbiamo, quando andiamo a fare la somma dei quadrati dei primi addenti, abbiamo uno quadrato, più due quadrati, più tre quadrati, che moltiplica al quadrato, che moltiplica, doppio uno quadrato, più doppio due quadrati, più doppio tre quadrati, più doppio due 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 quadrati, un doppio 3 tutto al quadrato a meno due volte adesso abbiamo 1 quadro più 2 quadro più 3 quadro e tanto è uguale e si mette in evidenza per 1 w1 più 2 w2 più 3 w3 quando vado a mettere in evidenza il prodotto viene 1 w1 w2 w3 viene questo a quadrato ok? quindi a parte uno di questi in evidenza posso scrivere che viene la norma di v a quadrato che multiplica norma di v quadro norma di v2 quadro adesso qui questi sono uguali tranne il coefficiente quindi viene meno v scalato 4 ok? ok ok allora l'area del parallelogramma era la norma di omega fratto la norma di Q ma quando vado a fare la norma di omega dovresti fare la paradice quadrata quindi mi viene la paradice quadrata di norma V quadro norma V doppio quadro meno V scalare U doppio al quadrato ok? vediamo un po' se torna questo beh innanzitutto se i vettori sono ortoconali deve venire la lunghezza di V per la lunghezza di V se i vettori ortoconali questo è 0 viene la lunghezza di V per la lunghezza di V se i vettori sono paralleli cioè se V è uguale a un multico di V questo viene 0 è infatti il parallelogramma di area nulla andiamo a vedere però e quindi questo l'abbiamo fatto con la geometria andiamo a vedere effettivamente che nel nostro caso la norma di V esterno V doppio è quella lì allora facciamo la norma di V esterno V doppio A quadrato deve venire quello che sta sotto la radice là allora questo chi è? era V2 V doppio 3 meno V3 V doppio 2 A quadrato più qua posso anche cambiare il segno perché l'altro devo fare il quadrato V1 V doppio 3 meno V3 V1 A quadrato più V1 V doppio 2 meno V2 V1 A quadrato allora andiamo a fare la somma dei quadrati allora allora io ho V2 quadro V doppio 3 quadro più V3 quadro V2 quadro più V1 V1 quadro V3 quadro poi metto i doppi per l'altro rimeduti alla fine più V3 quadro V1 quadro più V1 quadro V2 quadro più V2 quadro V1 quadro quadro più meno V2 quadro V2 quadro V2 quadro quadro V2 quadro V2 V2 V3 più V1 V1 quadro V1 V3 V1 V2 quadro V3 V2 V2 P2 V1 V2 V1 V4 V2 V1 V4 V1 V2 V4 V2 V4 V4 V1 V4 Per esempio, v1 quadro, me lo trovo qui, me lo trovo qui, mi manca la componente v1 quadro, v1 quadro, così mi manca anche la componente v2 quadro, v2 quadro, e mi manca la componente v3 quadro, v2 quadro. Questo, come lo aggiungo, se voglio ottenere questa quantità qui, lo aggiungo e lo devo anche togliere, quindi metto meno v1 quadro, v1 quadro, meno v2 quadro, v1 quadro, meno v3 quadro, v3 quadro, v3 quadro, v2 quadro, meno questo, e qua c'è più. Adesso, questo è uguale a questo. E questo chi è? Il quadrato del prodotto scalare. Il prodotto scalare è v1, v1, v2, 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 v3, v2, v2, v3. Allora, come si chiama il quadrato del prodotto scalare? Si fa il quadrato dei singoli termini, e poi si fanno i doppi prodotti, vedete, v1, 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 v3, v2, 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 v3, v2, v2, v3, v3. Quindi, è esattamente meno questo al quadrato. E' uguale a quella roba. Questo lemma, in realtà, un lemma simile, si può dimostrare in Rm. Vi ricordate in R2? Quindi, per ottenere un, questo che cos'è? Un vettore che ha la stessa area del parallelogramma individuato da v e v2, ed è ortogonale sia v che v2. Quando volevo in R2, mi serve un po' di spazio, bisogna ricancellare. Se stavamo in R2, avevo un vettore di coordinate AB. Come si faceva a trovare un vettore con la stessa lunghezza ortogonale a ques? si prendeva il vettore B-A. Si scambiava, ma questo chi è? Non è altro che il determinante simbolico di E1 e E2 AB-A. Quindi, se io ho, qua c'è anche il segno, il segno è fatto in maniera tale che questa coppia sia l'evolgica, cioè questo gira su 90 gradi a sinistra, se si fa su questo, e questa terna è l'evolgica, cioè il terzo vettore V, V, Vw, V si comporta come l'asse X, Vw si comporta come l'asse Y, V, esterno Vw, viene orientato come la normale terna l'evolgica. se fossimo in R-A-N se fossimo in R-A-N adesso c'è un problema di cambiamento di notazione perché in R, se sto in R-A-N i vettori non posso indicare più con gli indici le componenti ma indico con gli indici dei vettori indico i vettori V1 VN-1 sono in R-A-N quindi le componenti se volete le metto in alto allora se io faccio il determinante simbolico di questa matrice è 1-A-N e con N V1-1 V1-N VN-1-1 VN-1-N questo è solo i componenti di componenti che ho messo in alto è questo qua che vettore sarà sarà un vettore ortogonale a tutti questi perché quando andiamo a fare il protoscolare è come mettere le coordinate di uno di questi qua quindi il determinante della matrice viene 0 ed è un vettore che ha una area dell'ipersuperficie N-1 dimensionale pari a quella dell'iperparallelogramma generale da questo però questo qua non ci interessa ma andiamo a solo un accenno perché noi in realtà non andiamo a definire le superfici o le ipersuperficie in dimensione maggiore di 3 noi definiamo soltanto le superfici in R3 mentre le curve le abbiamo definite in Rn a valori in Rn quindi il sostegno di una curva per noi costa in R3 in R4 in R10 quello che andremo a definire come porzione di superficie regolare sarà soltanto una porzione di superficie che ha valori il cui sostegno sia in R3 ok? bene quindi abbiamo dimostrato questo lemma adesso un'imperto da che con il nostro tempo è che la parla è un'imperto il nostro tempo è un'imperto quindi vi faccio un'imperto 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 Allora, cos'è una porzione di superficie regolare? Allora, noi abbiamo un insieme del piano. Allora, T è la riuscita della sua partitela. E' un dominio, questo si chiama un dominio. Questo, se vi ricordate, è una posizione per evitare che T abbia baffio o cose di questo genere. Pensate, nella maggior parte dei casi, adesso lo faccio tondeggiante per chi l'ha, questo piano, lo chiamiamo piano B, piano dei parametri. Lo faccio tondeggiante perché andrò a fare una superficie che sarà come una superficie una patatina. Allora, abbiamo un'applicazione B e va a valori in R3. quindi io ho questa patatina, questa qua è curva, qua si vede di sotto della patatina, della superficie. questo è di sopra, un po' avuta dall'altra parte, quindi di sopra qua, qua dietro non si vede più, che si vede dalla parte di sopra. non mi chiede di fare una figura meglio di questa, perché già ci ho messo anni per arrivare a questo disegno. Allora, io prendo un punto, questo è T, questo è un punto di coordinate U0, V0, U0, V0 va a finire qua, FI di U0, V0. Allora, FI deve essere di classe C1 su tutto T, diciamo meglio su A. dove A è un'apertura di R2 che contiene, così evitiamo di dare definizioni. quindi che cosa vuol dire la funzione C1 su un'apertura lo sappiamo, vuol dire che le derivate derivate parziale esistono e sono continui. Questo mi dice anche che la funzione è differenziabile in tutti, diciamo, le componenti della funzione sono differenziabili in tutti i punti dell'apertura. questa è la differenza F. Ora, com'è fatto FI di Uv? FI di Uv è ha due componenti, ha tre componenti FI 1 ricordatevi che noi i vettori li mettiamo in verticale, quindi abbiamo FI 1 di Uv FI 2 di Uv FI 2 di Uv FI 2 di Uv FI 3 di Uv FI 2 di Uv e quando abbiamo fatto la rubia non è che l'abbiamo messa in verticale, però normalmente i cretori li dobbiamo sempre in verticale. Quindi, com'è fatto che lo iallobbiamo di FI nel punto Uv U, V. Ebbè, questo A non indicola le variabili, perché sono sempre un V. dF1 in dU, dF1 in dV. Poi abbiamo dF1, dF2 in dU, dF2 in dV. Poi abbiamo dF3 in dU, dF3 in dV. Questo io lo abbiamo. Allora, per abbreviare questo, Iacobiano, lo indichiamo con Fiu, Fiu. Questi sono un corretto rigolo. Fiu sarebbero le derivate delle compagnie di Fiu rispetto a U. Fiu sarebbe le derivate delle compagnie di Fiu rispetto a U. Allora, andiamo a incrementare di un un pochino, andiamo a costruire un rettangolino. Questo rettangolino è U0 più delta U0, U0. Poi qua abbiamo U0, U0 più delta U0. Cioè incrementiamo in maniera indipendente la prima o la seconda coordinata. Ovviamente questo qui ha coordinato U0 più delta U0, U0 più delta U0. Che succede? andiamo a prendere Fiu rispetto a U0, U0 più delta U0. Andiamo a prendere da quest'altra parte Fiu rispetto a U0, U0 più delta U0. Ora, se l'ingremento è abbastanza piccolo, io posso scrivere che Fiu rispetto a 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 prodotto scalare con l'incremento ma l'incremento è delta un zero zero più termini che sono o piccolo di in questo caso di delta un zero ma chi è questo? questo è phi u lo jacobiano è phi u phi v questo qua è una matrice 3 per 2 quando vado a fare il prodotto righe per colonne con quello che è 2 per 1 mi viene 3 per 1 ed è giusto perché si deve sommare a questo che è un mettore di r3 ok? quindi questo è circa circa cioè almeno di termini di ordine superiore è circa phi di u zero u zero più delta u zero phi u phi u nel punto u zero u zero similmente quest'altro è phi di u zero u zero circa più delta u zero per phi u u zero u zero e sempre se gli incrementi sono piccoli l'immagine di questo sarà questo più questo più questo più questo cioè questo punto qua è quello di coordinare u zero u zero u zero u zero u zero più delta u zero quindi questo quindi phi di u zero 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 è uguale circa sempre a phi di u zero u zero più delta u zero phi u calcolato u zero u zero più delta u zero phi u calcolato u zero u zero semplicemente per il fatto che stavolta l'incremento qua c'è un delta u zero delta u zero quindi quando vado a fare il prodotto di alto piano questo riscontra con phi e questo riscontra con phi quindi che cosa mi succede che a parte phi di u zero u zero che si comporta come una traslazione io sto dicendo che un pezzettino di superficie è quasi non è proprio perché io sto linearizzando cioè sto prendendo un parallelogramma piccolino su quello che chiameremo il piano tangente alla superficie in questo punto ma se mi sposto di poco dico che il pezzo di superficie si confonde con diciamo un pezzetto di un parallelogrammino che è stato un piano tangente e ottengo un piccolo parallelogramma allora quello che mi interessa però è vedere l'area del parallelogramma rispetto all'area del dettangolo di partenza diciamo questo lo chiamo r questo lo chiamo p io voglio vedere area di p fratto l'area di r questo perché perché quando io integro 1 in le u di v l'area di r no diciamo l'area di p la ottengo ottengo esattamente l'area allora voglio vedere localmente quanto si deforma quando si allarga diciamo o si restringe l'area quando aumenta o diminuisce l'area di p rispetto all'area di r ma quando andiamo a fare l'area di questo parallelogramma questo che è è delta u0 delta v0 per fi u esterno fi u in norma se vi ricordate perché il parallelogramma è stato semplicemente trasladato quindi la trasazione dell'area non diciamo del parallelogramma se io lo sposto non ha trasladato i lati del parallelogramma sono questi sono questo e questo come si faceva l'area del parallelogramma si faceva vabbè queste sono due scalari si portano in evidenza si faceva questo esterno questo e poi si faceva l'altro fratto l'area di r che è delta u0 delta u0 quindi vedete che delta u0 delta u0 si semplifica e minimale questa rata quindi è circa cioè l'area di p fratto l'area di r è uguale esattamente a questa cosa questo è circa uguale all'area del pezzetto di superficie fratto l'area del pezzetto del rettangolino che parametizzava quella superficie questo giustifica la seguente definizione allora adesso dobbiamo dare prima la definizione di porzione di superficie regolare e poi dobbiamo dare la definizione di area della superficie porzione di superficie regolare vuol dire che phi ripeto phi appartiene a c1 di a phi contenuto in a contenuto in r1 phi è la chiusura della sua parte interna ah va bene poi phi ristretta alla parte interna di t è iniettiva iniettiva vuol dire è una parziale analogia con una curva semplice cioè se vi ricordate per avere che la lunghezza di una curva non dipendesse dalla parametrizzazione io prendevo una curva che aveva ma dipendesse solo dal sostegno io prendevo una curva che percorrevo col sostegno e fosse regolare e semplice regolare per diciamo evitare problemi di un certo tipo ma semplice per evitare semplicemente il fatto che potevo percorrere eventualmente questo segno più volte è chiaro che la lunghezza del circuito di Monza non è uguale alla lunghezza del Gran Brevi perché il circuito lo percorre 50 e 8 volte chiaro? ah quindi questo fa il palio con un discorso che la curva sia semplice è una definizione non del tutto analoga perché se vi ricordate noi davamo una definizione più precisa sulle curve non ci bastava di iniettività su A, B aperto però sulle superfici ci accontentiamo cioè noi per esempio se possiamo benissimo con questo parametrizzare una superficie sferica nel senso che accettiamo il fatto che tutto la frontiera di B vada a finire il polonoppo per esempio ok? ok quindi vogliamo solo che questo sia iniettivo rispetto alla parte interna poi ci vuole l'analogo del fatto che la curva fosse regolare ora come si definiva una curva regolare? se vi ricordate una curva era regolare quando il gradiente scusate gli accoppiati la curva cioè il d'fi non non il gradiente il vettore delle derivate non si annullava mai perché la variabile è nelle curve no? nelle superfici noi abbiamo due varianti la condizione è che il rango di J phi di v è uguale a 2 per ogni u e v appartiene alla parte interna quando dicevamo che il d'fi era sempre non nullo stiamo nel caso delle curve quindi un parametro solo quindi ho d'fi 1 in d'ti e phi n in d'ti questo era d'fi parcolato di cosa sto dicendo? questa è una matrice n per 1 mt a un vettore dire che non è mai nullo significa che questa matrice non degenera mai cioè il suo rango è massimo il rango più di 1 non può essere perché questa c'è una solo cosa deve essere sempre 2 e qua stiamo dicendo che il rango deve essere sempre 2 perché vogliamo che il rango sia sempre 2 perché altrimenti succede che il mio parallelogramma degenera si chiude se phi u e phi v sono paralleli io sto portando un pezzetto dell'insieme di parallelizzazione non su un parallelogramma ma su una linea approssimativamente e lì questo mi complica parecchio la linea ok? allora io questo lo voglio evitare e quindi impongo questa condizione quindi questa è la definizione di posizione di superficie regolare e poi come si incartola l'area area di una posizione di superficie regolare allora naturalmente non sto a ridare tutta la definizione phi e come nel caso descritto a il sostegno f di t è il sostegno della nostra superficie chiamiamolo s a non lo stiamo a dimostrare ma l'area non dipende dalla parallelizzazione ma dipende solo dal sostegno s analogamente a quanto fatto per le curve lo dimostriamo qua perché capite bene che dobbiamo fare soltanto un'ora di fatica o no come concetto è esattamente lo stesso di quello che abbiamo fatto per le curve l'area di S è uguale per definizione all'integrale steso a t di phi esterno phi in norma in e e v ok e questo si capisce perché se l'area di un rettangolino cioè l'area di un pezzettino panizzato dal rettangolino delta u delta v di l'area delta u delta v era questo numero per delta u delta v io quando invece di fare un incremento piccolo ma finito passo all'integrale allora questa è una definizione quindi alla fine non è che le stiamo dimostrando niente però diciamo la definizione è giustificata da tutti i discorsi che abbiamo fatto qui voglio mettere nell'evidenza che questo si può anche scrivere come l'integrale steso a t della radice di l'equato più m'equato più m'equato quindi un'equato attenzione questi non sono costanti ma sono chi sono allora phi u esterno phi v uguale al determinante simbolico di e1 e2 e3 poi abbiamo del phi 1 in de 1 del phi 2 in de 1 del phi 3 in de 1 qua abbiamo del phi 1 in de 1 del phi 2 in de 1 del phi 3 in de 1 quando andate a quanto vai questo determinante simbolico e poi verrà e1 per l più m e2 più m e3 cioè sono le componenti di questo vettore e per definizione siccome sono le componenti di questo vettore la norma di quel vettore è la radice quadrata da somma delle componenti quadrata quindi è un altro modo di designare quell'integrale ma è una questione semplicemente di notazione questo dipende da u e v questo dipende da u e v e questo dipende da u ok mi dispiace che questo pezzetto questo segmento sarà probabilmente più lungo di un'ora ma devo dire ancora un paio di cose fare una notazione importante allora la notazione importante è supponiamo di fare lo stesso discorso che abbiamo fatto prima su un rettangolino adiacente cioè che abbiamo lato in comune con quello precedente noi otteniamo qui un altro pezzettino di superficie fate attenzione che i due mentre i due lati di questi rettangoli si attaccano sono sovrapposti i due lati dei parallelogrammi non si sovrappongono perché avendo noi linearizzato qui abbiamo non abbiamo fi non abbiamo esattamente questo ma abbiamo un'approssimazione di questo quindi quando ripartiamo da qua con questo punto qua che partiamo con il punto di immagine è leggermente diverso quindi quei lati sono quasi sovrapposti ma non esattamente sovrapposti quindi se noi immaginassimo di mettere tante scaglie a forma di parallelogramma sulla superficie cioè immaginate di fare una reticolazione della vostra del vostro insieme di parallelizzazione e andate prendete tutte le immagini dei punti che stanno a sinistra e in basso e poi prendete come quello che io dico scaglia è il parallelogramma che è immagine dell'applicazione linearizzata partendo dall'immagine del punto a sinistra e in basso ottenete tante piccole scaglie queste scaglie stanno sulla vostra superficie hanno un'area che è vicina a quella della vostra superficie ma attenzione che le scaglie non si attaccano ogni scaglia c'ha no? immagina di avere un pezzo di plastica immagina tu c'hai questa superficie di metallo qua tagli a seconda di questi numeri ritagli un rettangolino di plastica e lo attacchi qua seguendo questi numeri cioè un rettangolino un piccolo parallelogramma di plastica e questo lo puoi fare quando vai a attaccare tutti questi parallelogrammi quello che ottieni non è una nuova superficie tutta sfaccettata ma sono tanti pezzetti di superficie i cui bordi non si attacchano ok? però questa è l'approssimazione che serve per fare l'area tra l'altro questo mi dà anche l'occasione di dire una cosa che avevo dimenticato si chiama bordo di s per definizione è fi della frontiera di t quindi come t va a finire sulla nostra superficie s la frontiera di t la frontiera di t va a finire su e questo diciamo si indica con t s attenzione non è la frontiera di s perché questo sostegno fi di t sta in r3 non ha punti interno è un pezzo di superficie quindi se fate la parte interna viene vuoto interno in realtà è vuoto che condivano una palletta quindi questo non è non ha punti interno però il bordo di una superficie è l'immagine della frontiera di t cioè quando io vado allora questo qua era la mia fetta di patata prima della cottura l'ho cotta è diventata curva dalla parte che si è distretta e dalla parte che si è diventata curva quindi c'è una una funzione che mappa l'insieme di parametrizzazione iniziale su questo la frontiera bidimensionale del mio pezzo di patatina bidimensionale va a finire sul bordo della patatina chiaro? quindi per esempio per esempio se io parametrizzo una una parametrizzazione molto semplice lo vedremo poi dopo con gli esempi se io voglio parametrizzare una superficie sferica posso parametrizzarla con una con una superficie cilindrica che a sua volta la posso parametrizzare con un rettangolo il rettangolo ce l'ha la frontiera però in realtà la superficie sferica è senza bordo perché senza bordo perché prima di tutto quando analizza la superficie cilindrica i due bordi diciamo questi due lati della frontiera questa è ancora un bordo che è questo qua gli altri due si attaccano e si capisce che non sono un bordo perché io le posso diciamo quando prendo la superficie cilindrica il taglio lo posso fare dovunque per poi stendere per metterlo sulla superficie piatta sul rettangolo e allo stesso modo quando poi la superficie sferica la mando sulla per esempio faccio la proiezione che se non va si chiama di mercatore quella che diciamo in genere mi pare che se si proietta così diciamo i punti vengono diciamo i punti di questa circonferenza vengono riportati sulla circonferenza più grande sulla superficie cilindrica circoscritta in qualche modo che ha lo stesso raggio del raggio della sfera e allora è chiaro che tutta questa circonferenza collassa al polo nord e tutta questa circonferenza collassa al polo sud dove stiamo parlando della terra e quindi in realtà questa c'è il bordo ma questo qua si riduce a un punto che se la facessi da un'altra parte potrei mettere da un'altra parte quindi in realtà la superficie sferica si può vedere senza bordo oppure noi possiamo prendere un pezzo circolare e farla amministrare con questo una mezza superficie sferica allora il bordo sarà per esempio l'equatore e così via comunque il bordo per definizione è questo ok che ripeto non coincide con la frontiera perché s è tutto frontiera non ha punti in tempo l'area di s si fa così se io prendo un'altra parametrizzazione regolare l'area è la stessa si può dimostrare l'area la stessa perché ho detto ho fatto diciamo ho precisato che se andate a fare le immagini linearizzate di questi quadratini o di quei rettangolini vi vengono tante scaglie che non si attaccano di quei bordi che non si attaccano per un fatto molto importante visto che alcuni di voi saranno ingegneri informatici e quindi e quindi per esempio se dovete fare qualcosa di computer grafica il vostro dominio mettiamo che sia questo quindi ho qua un pezzo di un rettangolo che mi parallelizza un pezzo di superficie a t allora questo rettangolo non lo dividiamo in rettangolini ma lo dividiamo in triangolini perché allora cosa si va a fare si vanno a fare le immagini di tutti i punti della reticolazione e cosa si costruisce allora si uniscono allora se la parametrizzazione è regolare cioè se questo quel rango è sempre 2 questi triangoli non degenerano mai se il parametro è abbastanza piccolo e si va a unire si va a prendere l'unico piano che passa per questi 3 punti non degenerano mai significa che questi 3 punti non sono allineati cioè se noi prendiamo 3 punti che sono i vertici di uno di questi triangolini questi 3 punti sono sempre non allineati e allora effettivamente si va a prendere l'unico piano che passa per questi 3 nel momento in cui si va a prendere l'unico piano che passa per questi 3 punti e si ripete quest'operazione ovviamente quando faccio la cosa dal triangolino che è l'altra metà di questo rettangolo stavolta le scaglie triangolari si attaccano lungo il punto quindi noi in questo modo otteniamo una possibilità della nostra superficie che è fatta a scaglie triangolari che però non hanno questo problema che non si appartano questo è importante allora per talure questioni per avere un'area è meglio fare così a parte che è più semplice ma ci sono anche altri problemi però per avere invece un'approssimazione della nostra superficie che sia fatta che abbia che sia sfaccettata con facce piatte con facce che stanno sul piano bisogna fare così allora questo è importante sia per la computer grafica ma è importante anche quando andiamo a fare metodi numerici per le soluzioni di corzioni differenziali in domini di r3 no si fa una griglia di questo tipo e si devono considerare le differenze in questo modo il come si chiama il ok per quanto riguarda la computer grafica dice ma io quando vedo la computer grafica non si vede che le facce sono sfaccettate c'è un trucco le facce sono sfaccettate ma non si vede cioè se tu hai una vera approssimazione di una superficie in r3 fatta tutta a facce piatte no immagina la superficie o di un diamante oppure immagina una superficie appunto molto sfaccettata diciamo di un gioia di un giocheria tu la vedi le vedi le facce ma perché le vedi le vedi perché la luce tu vedi diciamo questi spigoli perché qua c'è una discontinuità dell'angolo di riflessione no questo qua riflette secondo un piano che ha una certa componente normale che è il fiu esterno fiu questo qua riflette secondo un piano che ha una componente normale leggermente diversa perché questi due piani fanno un angolo dietro non sono messi sullo stesso piano fanno un angolo così allora se tu hai questa stessa superficie fatta a scaglie piante ma fai variare l'angolo di riflessione secondo le leggi della fisica e per cui fai variare la luminosità che arriva all'occhio in maniera continua sulla superficie senza tenere il colpo quella è una la luminosità e tu quanto quando devi fare chiaro l'immagine in quel punto vabbè diciamo supponiamo che sia non sia un'immagine a colori quindi semplifichiamo sia soltanto un'immagine con toni di grigio allora tu devi dire semplicemente qual è il tono di grigio da 0 a 255 oppure se hai una profondità di 3 byte da 0 a in una certa scala ai 65 mila per 256 sono un tot di milioni di di livelli di grigio allora detto questo se tu fai variare il più possibile con continuità cioè non si a quel punto che cosa succede succede che tu questa diciamo discontinuità nell'angolo non la vede ci sono alcuni programmi adesso la computer grafica è andata talmente avanti che probabilmente non me la accorgete però quando stavo insomma giocavo io con il computer quindi stavamo negli anni di 80 allora c'erano alcuni programmi semplici che ti facevano un cilindro te lo approssimavano come un prisma tu per vedere che era un prisma dovevi guardare il polvo di sopra o il polvo di sotto perché quelli venivano per forza tagliati come un prisma ma se tu guardavi qui queste linee verticali non le vedevi tu vedevi la superficie perfettamente cilindrica quello che ti incarnava era il fatto che diciamo la luminosità del cilindro per esempio era un cilindro sfumato che andava dalla parte più diciamo che la luce veniva qua questa parte era più illuminata questa parte era più scura allora questa sfumatura qua era talmente andava con competitività poi adesso questo non lo so fare però diciamo che qua si vedeva più luminoso diciamo più bianco qua si vedeva più scuro ma si può variare un po' di unità poi la riempirà non va bene se però guardavi sopra vedetevi esattamente che il polio di sopra non era una circonferenza ma era un polio ok ovviamente adesso non te ne accorgi perché il computer di adesso qua fa talmente tanti lati che anche questo potresti convolverlo dalla circonferenza però alla fine il trucco è sempre lo stesso ok va bene adesso fermiamoci